salve amici di youtube e benvenuti in questo sesto episodio di dns tech pack e qui come c'è gabriele prg ciao a tutti allora ragazzi siamo andati a cercare un villaggio perché il viaggio è stato abbastanza lungo cioè siamo stati mezz'ora a cercare un villaggio però comunque siamo andati in questo villaggio perché perché dovevamo cercare uno smeraldo abbiamo bloccato questo villager perché ce lo poteva dare e in pratica questo smeraldo ci servirà per fare un macchinaio che ci darà diciamo la possibilità di fare alcuni item infiniti diciamo tipo diamante o altri altri item diciamo poi spiega meglio gabriele perché io sono negato allora ragazzi in pratica ci serve uno smeraldo con scusatemi ci servirà uno smeraldo e dell'ossidiana e un po di polvere di redstone e un po di glowstone quindi pietra luce e con questi diciamo items materiali potremmo creare l'energy manipulator l'energy manipulator cos'è è un una mod che un macchinario in pratica che ci duplica che ci duplica parecchi items compresi diamanti e diverse cose tipo rubber tipo i semi e tante altre cose tramite corrente e o altri items ossia si chiama energy manipulator e in pratica noi adesso abbiamo un episodio precedente vi ho fatto vedere come creare force adesso andremo poi a casa e vi faremo vedere come faremo i force engine che abbiamo già preparato i materiali e abbiamo spettato rendo il lo smeraldo l'emerald ok l'emerald adesso sta in trattativa con te io non posso aprirlo eccolo qua gli diamo 21 coal lui ci dà uno smeraldo ok quindi facciamo adesso ci trasformiamo di nuovo vabbè no c'è i waypoints salvati ovviamente waypoints di qui ok con b villageri è un nome stupido da dare vabbè ok adesso vai a casa nuova mi tpd perché sai che io non ho i waypoints devi mettere e vi farò vedere il tutto no non lo metto perché tanto come cambi p sono andato nella casa 2 quindi devo farti eh slash tp il tuo il tuo nome il mio nome ok no no al contrario che pirla allora mi confondo sempre eh sì perché dire eh teletrasporta gabrielle da bayon perfetto ok ragazzi allora siamo qui e allora faccio fare tutto a bayon così potete vedere io nel frattempo tanto lo so già fare e chi mi guarda comunque io guarderò dentro la crafting il forge engine dovremmo dire sì infatti fammi finire e quindi eh come stavo dicendo prima vi abbiamo fatto vedere come abbiamo fatto i force ingot gli alberi di forza e tutto il resto e eh abbiamo già anticipato il lavoro e abbiamo fatto questi force engine li abbiamo lasciati qua nella crafting così vedete sia il crafting sia vedete che non citiamo e e basta quindi adesso poi sono tutti qua poi alla fine sì perché tanto è il force gear si fa con un un ingranaggio di pietra e quattro lingotti attorno quindi questo qua l'abbiamo saltato giusto prendi tutti e cinque perfetto ok adesso eh l'NG manipulator si fa con due diamanti sopra quindi uno in alto a sinistra e uno in alto a destra lo smeraldo al centro devo prenderli ah dobbiamo fare prima il calderone però aspetta prendi i sette lingotti di ferro scusa mi sono saltato un passaggio già dieci ok serve la polverina gialla gialla quella rossa quindi pietra luce glowstone redstone e ossidiana ok il carrello si fa eh una u aspetta ok hai una u ok senza ma una u eccolo qua lo mettiamo sotto in basso perfetto sopra al centro la glowstone ecco qua sopra la glowstone lo smeraldo ok così perché ho redstone ai due lati mi devi dare l'ossidiana soltanto allora vado a prenderla perché non ce l'ho e ce l'abbiamo lì giù perfetto uno e 12 perfetto allora qualcuno mi sta scrivendo su facebook e mi sta cagando il cazzo ma non importa poi andrò a vedere ok e abbiamo fatto l'energy manipulator ecco perfetto adesso l'energy manipulator lo mettiamo anche magari qui sotto questa bella torciona ecco qua perfetto adesso prendi per esempio un diamante ok uno ok prendi tutta la cobblestone terra tutto quello che non serve ok terra terra volendo anche netherrack tu prendi la cobblestone prendo la terra vabbè adesso adesso apri l'energy manipulator ok mettiamo tutta la terra così vedete che sparisce man mano si sta caricando anche la pietra si metti anche la pietra tutto quello che non ti serve come vedete ragazzi si sta caricando adesso mettiamo vabbè io adesso metto per dirti un po' di questi qua no questi non funzionano per esempio ecco guardate il pane o 15 di pane così sale in fretta l'energia poi vediamo un po' a se tenete premuto maiuscola e passare sopra gli items ogni items vi dirà eh transmutate evi cosa vuol dire evi è 128 per esempio per il bronzo vuol dire evitare 128 punti il diamante mi sembra che 4000 se non sbaglio 4000 è qualcosa però è meglio non usare tipo veri la cobblestone dice che è transmuta il livello ev 1 ok però si ma la cobblestone non ce ne facciamo un cazzo quindi per buttare via la glonson te ne da 128 si la glonson 128 e il ferro mi sembra 128 256 quindi questa la trasformiamo così sbammete questa così sbammete ok è un po' di questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Invece in alto a destra c'era la mappa e non volevo togliervi la possibilità di vedere la mappa ogni tanto, quindi mi sono messo un pochettino più giù. Ok. Allora dovete cliccare, vabbè dovete sempre cliccare l'oggetto per imparare a farlo, se no è un casino. Ok, allora si mette questo qui. La redstone è al centro, però prima fai gli slab. Ok, ecco gli qua gli stone slab. Poi le mettete così e mettete la redstone centrale. Perfetto. Uno stacchi di 64 di questi qua. Ok. Poi, aspettate che mi stava... ok. Dopo aver fatto quelli, adesso dovete fare... mettere quello sopra. Mettere l'ender pearl al centro. Puoi mettere la redstone. Quante ne vuoi fare questi? Uno? Eh, no, fanne tre, quattro. Ok, quattro. E poi la stone, quella liscia, ancora. Una chest che non abbiamo. Me la dovessi fare per cortesia perché non ce l'ho. Infatti qua non c'è. Vediamo nel legno se c'è, se no mi devi lasciare un attimo la crafting libera. No, se no direttamente... No, non abbiamo chest, perfetto. Allora, aspetta. Vabbè, mi faccio un'altra crafting, tanto ci serve. Se no direttamente spacchi una chest che c'è là in fondo... No, vabbè, mi faccio un'altra crafting. Tanto c'era uno di ossidiana. Cioè, spacca quello. Sì, vabbè. Faccio così, faccio prima, no? Ti ho fatto la chest. Presa. Te l'ho rubata. Ah, devi farne quattro però. No. Tanto ne fa due a botta. Quindi ne facciamo solo un'altra. Ti faccio un'altra crafting. Ok. E un'altra chest. E abbiamo quattro di quelli. Perfetto. Questi me li piglio io, fregato. E mi prendo tutto. Ok. Adesso, con questo qua, il transfer node, che cosa dobbiamo fare? Allora, dammelo a me. Perfetto. Che carini. Dammi, per favore, un secchio d'acqua e un secchio di lava e un po' di cobblestone. Eh. A cobblestone me la piglio io, non è un problema. Ma il secchio di lava che è il problema. Eh, non so dove abbiamo messo i secchi. Abbiamo fatto un po' di ordine sul... Forse devo andare a casa. Vabbè, ricraftane uno, dai. No, ma c'è già tutto pronto. Se mi ricordavamo, già un secchio di lava e un secchio di acqua. Se ce ne abbiamo tutte due, siamo a posto. Ok, niente. Vabbè, io ragazzi inizio a preparare il tutto. E poi lui mi raggiunge e vedete. Ok. Allora, mi trasformo in pipistrello così posso volare. Perché il problema è noi? È che abbiamo già trovato un vulcano, se mi ricordo. Sì, più di uno. E anche il secchio d'acqua. Allora, all'incirca dovrebbe essere qua. Ehm, no. Uno più là, porca vacca. Che la posso fare. Ok. Uno e uno due. Mettiamo questo. C'è un problema. Che problema c'è? È che non abbiamo... Non i secchi, no. Non abbiamo proprio la lava e l'acqua. Quello è il problema. Dove è? Eh, non so dove abbiamo buttato i secchi. Ma quello è il problema. Vabbè, ricraftali, dove è il problema? Io mi ricordo che erano negli oggetti vari. Ce ne sono quattro, infatti. Però non sono pieni. Vabbè, l'acqua ce l'abbiamo qua fuori. Eh, è quello. È la cosa più facile. Vado nelle cose, come si chiama? Nel nether. Nel nether e vado a prendere quello. Ah, ho sbagliato. Subito. Hai piantato degli alberi in mezzo alle balle. Tanto so che sei stato tu. Può essere. No, è possibile. Ok, entriamo nel nether. Scusate se vedete un po' di lag mentre si entrano nel nether. Ma è così. Ci posso fare. No, non mi picchiare. Non ho fatto niente. Scappa, scappa. Guarda che un muore. Non mi posso trasformare. No, no, no. È morto. È morto. Allora, in my point. Non c'è la morte, non me la conta. E no, perché sei in un altro mondo. Mi devo equipaggiare per combattere i cattivi. 3-4. 3-4. Poi. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 3-4. 1-2-3-4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Perfetto Questo qua, così E così Adesso Mettiamo 1, 2, 3 E 4 Ragazzi, io sto Facendo, poi quando arrivo Farò vedere anche a voi Sì, perché sto facendo Devo fare una bella cosa, devo andare a ammazzare Perfetto A far fuori quelli lì Allora 1, 1, tomorrow Vampiro Anzi pipistrello 2 Voliamo, voliamo, voliamo Non mi sta bene Perdere per colpa di Di questi mostriciatoli Dal cavolo che mi stanno uccidendo E 4 Ah, non mi puoi prendere Sono un pipistrello facciata serpente c'erano anche otto diamanti nella nella crafting cioè avevo otto di diamanti nella nella cesta grazie Allora Abbiamo detto si fanno così Perfetto Ok cosa dobbiamo fare con questi secchi? Portameli a me e ti faccio vedere Ok Dove sei? Sono a casa? Eh si ma sei fuori casa? No sono in casa Queste cose che ci sono qui? Quelle lascia lì che adesso arrivo Ah eh c'è un pipisterello chi ti vede se sei un pipisterello? Scusa Ok Vieni a far vedere Ai tuoi I vetri No i vetri Erano questi qua da fare Io li ho già fatti i 32 Ah ah Che non erano quelli che abbiamo fatto prima con la redstone Ma sono questi qua I transfer pipe Perché quelli che abbiamo fatto prima sono per la corrente Ok Quindi io li ho già presi Quindi se vuoi prenderteli giusto per ma tanto non servono Vieni fuori Vieni fuori Eh Dove diventare un pipistrello Ok Adesso si è attaccato Ok Si è attaccato grazie a quelli Si grazie a questi adesso funziona Perfetto Quindi Ok Vieni qua sopra Quello sei tu Occhio non sono io Non lo guardare È un enderman Sei fottuto No 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 Sono un piccolo slime L'ho ammazzato io Non ti preoccupare Perché c'è il figlio? Perché sono figli di Bip Ma dove cacchio? Sopra di te Dove cacchio è qua? Ok Ammazzato Comunque ragazzi Dicevamo Vieni sopra di me Qua sopra Ma tu chiedi troppo a uno slime Ah Vola? Grazie Dopo Dopo E beh Allora Non sull'ultimo qua sopra A questo livello qua Quindi sul quarto Metti da una parte la lava E da una parte la pietra Ok C'è l'acqua scusa Allora Nel quarto quadrato Sul quarto Si in alto Qua Perfetto E dall'altra parte metti la lava Ok Adesso Chiudiamo Perché Dai Essendoci lava Andiamo a vedere Nell'energy manipulator Magicamente Sta arrivando cobblestone Ok Ah Quindi ragazzi Perché sta Il trucco Della lava Si Bravissimo Sfrutti La lava E l'acqua E adesso avremo Tutto infinito Grazie alla cobblestone Grazie alla cobblestone Quello in pratica Mi ho creato un generatore di cobblestone Così facciamo cobblestone A gugu Avete visto che furbo che è Gabriele Eh Lo guardo con quegli occhi da pipistrello Eh Che cazzo sei Batman Eh si Tu sei un pipistrello Ti guardo con quegli occhi da pipistrello Comunque vi piace come trucchetto Lo dovete Fatemelo sapere Fatemelo sapere tramite i commenti Esatto Perché i commenti fanno sempre bene Adesso abbiamo un qualsiasi materiale Se io tolgo i diamanti Per esempio Da qua sopra E metto questa Non me la fa Perché questa qua non si può fare Ah Come ho detto Epic fail No vabbè non è epic fail Vediamo Voglio fare il bronzo Ecco la redstone Per esempio Oppure voglio fare il bronzo così Faccio il bronzo Tolgo E metto di nuovo il diamante Vedi ho le ender pearl Ma è bello che Mi mettete Quante ne abbiamo fatto eh Hai visto? È una cosa velocissima Semplice Poco costosa E abbiamo Adesso I temps infiniti Però se voi non li prendete subito Guarda il vetro Guardate il vetro Che cosa potrebbe succedere No vabbè però Per esempio Tu togli il diamante Metti il vetro Prendi uno stack di vetro magari E poi rimetti il diamante Devi essere vero Adesso No Perché basta che faccio così Vedi Ti fa pietra all'infinito Converte la coble Sono in pietra Ok adesso rimettiamo il diamante Perché se no Mettiamo il diamante Sbambe No ma mettina solo uno Ok E l'altro lo lasciamo qua Così Ok quindi adesso Se noi vogliamo tipo avere Il vetro Infinito Tra virgolette Possiamo metterlo Qualsiasi item Esatto E siamo più ricchi E siamo molto più fighi Comunque ragazzi Il secchio di lava lo mettiamo qua dentro Va bene Anzi in verità ne abbiamo due secchi di lava Cosa a meno Perfetto Perfetto Il vetro lo mettiamo qua dentro Io mi devo svuotare un po' l'inventario Perché sono sempre pieno di roba Quindi ragazzi Adesso che abbiamo Tra virgolette Diamanti infiniti Possiamo creare Tutto Esatto Quindi Sempre aspettando nel limite Della decenza Ovvio Possiamo craftare Tutto quello che Che ci può essere utile Quindi per esempio Siamo impazziti Una puntata intera A trovare sto cazzo di legno C'è problema Si duplica E via Così abbiamo risolto il problema Esatto Non devi andartelo cercare Quindi ragazzi Per questo episodio Diciamo che È tutto Così avete già Una bella Idea Su cosa fare Quindi da Gabriele PRG E Bayon Community Ragazzi ci vediamo Nel settimo episodio Di DNS Tech Pack Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti